Mister Remodiana, siamo alla vigilia del debutto ufficiale suo e della Reggiana in Coppa Italia. Le chiedo come sta la squadra e come sta lei. Sei pronto per iniziare ufficialmente questa nuova avventura? Io pronto sicuro. Non ci sono dubbi. La squadra è anche la prima. Sono molto curioso, onestamente sono curioso. Anch'io. Fatico a dare un giudizio subito perché ho la curiosità di vedere una squadra nella mentalità ufficiale. Quindi vicino alla partita, le amichevoli difficilmente si riesce ad avere una concentrazione alta. La partita invece, soprattutto anche con il pubblico, riesce a darti una stabilità, una concentrazione molto più alta. Quindi la curiosità della gente è la mia curiosità di vederla, di vedere determinati giocatori all'opera in un contesto di ufficialità. Insomma, dove conta qualcosa in questo caso il passaggio del turno. 90 minuti più eventualmente supplementare i calci di rigore e un derby contro il Piacenza. Che partita si aspetta in campo? Partita vera. Partita vera. Al di là che sia un derby o no, sicuramente questo influisce ancora di più. Però siamo ormai in dirittura d'arrivo anche per il campionato. Quindi non ci si può più permettere dei vuoti mentali. Ma mi aspetto una concentrazione importante e alta. Al di là del risultato che sarà, secondo me, come quasi sempre lo è, condizionato magari dagli episodi, da una sbavatura. e quindi ci tengo molto di più al fatto che Alzino ha molto la concentrazione e il livello nervoso. Questo mi interessa di più perché poi da lunedì prossimo non si può più sbagliare, chiaramente. Grazie.